ciao a tutti da dedo ranger benvenuti in un nuovo video delle 3 box reviews in questo episodio eccoci finalmente a fare la rio di qualcosa che mette in un casino di persone quando avete visto una pagina facebook ho ricevuto moltissime richieste per questa fantastica acquista ho fatto al luca comics sì oggi facciamo la rio di questa fantastica cosa che ho comprato ma il della brain cats di kingdom arts 3 su sora cominciamo subito analizzando direttamente la scatolina direttamente che trovo già la figo cedente qua dentro allora comunque sia qui avvertiamo tantissimi vari loghi molto belli qui sopra c'è se non si vede per nulla c'è il logo della disney purtroppo perché c'è un pochino veramente molto grossa in tempo subito un casino di quanto fosse grossa scatto non me l'aspettavo per nulla un pochino nostra figlio qua dentro 20 in un pochino bellissima possiamo una cosa di teatro proprio veramente molto buono poi acquistiamo la scritta kingdom rest solo una cosa in giapponese qui scritto con bring a 6 inch action figure non so cosa vuol dire 6 inch ma ok che forse dovrebbe dire per pollici non ne dire acquistiamo dei warning che in pratica ecco i dialoghi che non c'entrano sono praticamente per nulla e questa scritta che ci indica vabbè che è raccomandata per le persone che hanno 15 anni in più perché è una cosa per collezioni estremamente fantastica ok i lati corti qui e qua dietro vabbè non vorrò accedere nemmeno un po' per intero perché non sarebbero semplicemente in vari simboli di kingdom maps veramente molto belli meglio questo qui il cuore direttamente un simbolo del kirby del simbolo poi è ripetuto all'infinito proprio che iniziano e finiscono anche salendo direttamente di qui sopra quindi solamente molto bene e per cui c'è la scritta bring a 6 inch action figure e la parte qua dietro della scatola troviamo qui sopra il nostro so direttamente così in varie pose molto semplici ma purtroppo si vede proprio in qualche posa del combattimento poi ci sta molto bene infatti mi facciamo cosiddette la composizione fatta anche di foto che ne hanno fatte che sono veramente molto belle peccato non ci sia qualche posa di combattimento cosa c'è su un'altra figure di questa linea ma che vedremo poi più in avanti e verdi applicato fine video di chi sarà ma sicuramente quanti voi avete capito perché che questa pagina facebook capirà i soliti loghi come scritte in giappone non ci interessano e un logo qui sotto pochino che non capisco bene cosa vuol dire mi sembra citato disney entertainment inch vabbè alcuni avvertimenti e quella della cosa di fabbricazione fatto made in china rispetto proprio in giappone vabbè è una cosa un po' mi ha stupito ma vabbè ragazzi dopo questo punto questo box analisi qui vediamo la nostra figure fuori dalla scatola ed ecco qua il nostro sora uscito fuori dalla con sua confezione e dio santo che figata che è sta figure fantastico ragazzi che meraviglia di brutto sono contentissimo veramente un casino prima di cominciare a direttamente a vedere direttamente lo scape tutto il resto una cosa fighissima guardate che meraviglia questo sfondo è bellissimo ma veramente una cosa unica ma ci sta perfettamente mentre un fiore all'occhiello questo sfondo qui bellissimo proprio con il nostro sora mi potrebbe servire in seguito qualcosa altrimenti è bellissimo sì una cosa che vi sicuramente vi state domandando è che vedete sicuramente una piccola cosa che qui un po' sta fatta un po' male qui in realtà sappiate che non è direttamente una cosa che c'era nella figure è direttamente un era di painting che io ho corretto una mancanza di colorazione che sta a parte qui è attualmente nella loro corretta con un patica un po' di colore si so che risultato non si vede per bene ma almeno la figure è fedele proprio al cento per cento a come la vediamo in kingdom heart star poi c'è un botto di roba che adesso andiamo a non iniziare comunque sia cominciamo subitissimo vedendo direttamente lo scape di questa figure qui che è sensazionale di brutto però è una figure molto costosa perché la pagata sui 70 euro mi sembra una merita 75 euro scusatemi è davvero fatto bene è eccezionale su tutti i fronti allora per cominciare guardate qui la testa come è fatta davvero bene i capelli sono fatti questo marrone qui fatti molto bene però proprio sono ben scolpiti proprio anche qui gli occhi sono fatti in maniera perfetta proprio anche l'espressione tutto quanto ci sta benissimo qui i dettagli sono fatti perfettamente bene a parte questa piccola macchettina nea qui ma ok ci passo sopra non è nulla di grave anche qua dietro guardate che meraviglia un casino di sfumatura anche qua dietro a 100 guardate quanto sono fatti davvero bene e anche qua nelle gambe sono fatti in maniera impeccabilissima sono fatti benissimo anche qui i piedi della figure e ragazzi guardate che roba bellissima un'altra cosa interessante che poi i materiali sono fatti veramente molto morbidi ad esempio qui la giacchetta si anche apre leggermente ed è veramente fantastico veramente per Sora non so che dirvi sono veramente contentissimo Sora è direttamente già quello che mi sembra in Kingdom Hearts 3 è lui ragazzi è lui proprio nella mia collection fatto alla perfezione ragazzi io non trovo né un singolo difetto proprio di painting che mi dia fastidio lo trovo benissimo in solito nel figure lo trovo ma è tutto scolpito alla perfezione questo è un voto molto positivo che secondo me ci sta davvero ma veramente molto bene ragazzi che roba che è proprio guardate da ogni punto che guardo non noto nulla che mi dà fastidio non ci credete mai ma è fatto veramente benissimo prima di passare direttamente a questa figura qui vediamo se continuano le articolazioni che ha vediamo un attimo rapidamente allora come c'è già la testa qui su sfera che si muove grazie al collo che è anche un po' mobilitato in avanti ben così in alto guarda e si piega leggermente così in basso piegamento laterale e rotazione a 360 gradi il braccio ha un mini giuntino qui a sferico un po' difficile far vedere ma che però considera un buon orientamento in tutte le pose che si vuole andare per cominciare va ben così in alto ma proprio benissimo anche fino a qua sopra con la altezza della spalla guardate che si piega di brutto in maniera perfetta parte qui del braccio che si ha una leggera rotazione si è nata pochissimo questa parte qua ma ok a me non importa per nulla poi c'è il piegamento qui ok non è doppio però mi faccia bene così e poi anche il posto è ben orientabile perché si piega così in avanti ben indietro questa cosa che è utilissima anche per sore e quando ti cerchi proprio le giuste pose che so dovrebbe avere e io sono veramente molto contento e la parte del busto invece abbiamo qui due sistemi speciali di articolazione a cominciare qui da questo punto qui sopra che si piega così in basso e si piega così all'indietro ma molto leggermente questa parte qui si ruota mi sembra no oppure no vabbè comunque sia poi e poi c'è un sistema buono alle gambe che gli dà buonissima articolazione per cominciare a portare il calcio in avanti fino a questa altezza potrebbe andare anche fino a di più mi sembra ma io non ci vado perché ho paura di rompere qualcosa e mi piacerebbe un casino perché è una figura fantastica poi c'è la spaccata che è quasi totale ricordiamoci quasi totale non massima però ok ci sta molto bene poi c'è questa parte qua che in pratica c'è un piegamento singolo a 90 gradi ma ok ok ci sta benissimo e poi il piede c'è un sistema interessante di rotazione che mi piace un casino allora per cominciare la volta è così in questo metodo qui ma però si piega così in questo metodo in basso ecco così in alto ma è veramente ottimo perché da così la giusta possibilità che solo dovrebbe direttamente avere e questo mette un punto favore perfetto vediamo adesso tutti gli accessori da cui è accompagnata questa brain gas che è solamente un casino veramente tanti sempre di quanto non mi sarei aspettato e devo dire accidenti tanto di cappello veramente comunque se lo vediamo lì qui allora sono per cominciare tutte queste maniche se cominciamo delle cose più noiose allora ci sono questa e mi sembra quest'altra qui che sono due mani a pugno chiuso che personalmente non mi interessano per nulla quindi le vi trovo come la peste perché avete fanno utile poi ci sono queste due mani a palmo aperto vabbè pose un po più sempliciotte ci stanno ok e poi infine ci sono questi due mani queste qui servivano poi nelle trasformazioni del key break e poi sono anche stesso nel videogioco ma le vedremo poi bene dopo e è un'altra cosa importante che c'erano questi due maniche a palmo aperto che io trovo sempre questa brain gas perché per me vanno già benissimo così i ragazzi che palle che sono proprio e sono anche bene impugnabili sono fatte in un sistema molto buono di gomma proprio una specie di gomma molto bene di plastica che sia ma veramente molto attivo impugna molto bene il key blade e in generale che tanto il key blade scusatemi un casino adesso ve lo faccio vedere ma non prima voglio farvi vedere un'ultima cosa sì scusatemi sono un po' tremendo la testa intercambiabile questa con espressione un po' più seria questa vuol dire che in fondo mi piace e poi c'è un'altra cosa che ho dato adesso che c'è gli occhi si spostano in una direzione mi sembra che si spostano dall'altro lato in pratica vabbè ok che ci sta molto bene e inoltre si può staccare così in questo metodo e si può andare a mettere così ma io personalmente preferisco più solo all'ego questo magari lo troverò per le pose vedremo poi per bene adesso vediamo finalmente la parte più succulente che tutti quanti voi starete aspettando signore ecco quello qua il key blade eccolo qua non so bene il nome del key blade mi sembra che l'ho successo in qualche parte sulle wikifandom mi ricordo bene però sembra è veramente bellissimo guarda qui che roba sicuramente come key blade non è il massimo potrei piaceremi di più vediamo però vediamo proprio bene c'è questa catenella qui che è purtroppo fatta in plastica e non è fatta in metallo e che caspita non mi sarebbe piaciuto un casino di più ma vabbè che si parla di età e non è nulla di che importante qui devo avvertere la stella che è questo key blade qui fatta davvero molto bene i colori proprio ben messi fatto veramente molto bene se quasi senza nessunissimo errore di painting a parte forse qui mi sembra di notare qualcosina ma forse voi ne sono notate per non quindi sto facendo cose a vanover a qui mi sembra di aver notato un leggerissimo ma vabbè è una cosa praticamente inutile quindi è veramente molto bello ci sta veramente un casino di brutto fantastico proprio tra l'altro cosa interessante che questo key blade qui dai colori che ha direttamente mi ricorda un altro key blade che abbiamo o meglio il cer castello questo qui di kingdom hearts 2 con kingdom hearts barbara sleep in pratica che è quello della mia storia e mi ricordo anche dalle stelle che c'è potrebbe essere anche questo ma che potrebbe anche essere uno dei legami con acqua o che ne so magari un key break concentra completamente a nulla che compagni l'improvisto comunque ci stanno molto bene chissà se magari sarà un'evoluzione ma lo vedremo poi per bene perché soprattutto che poi i key blade saranno anche ribellabili nel kingdom hearts 3 io ancora non so nulla perché ancora il gioco non è ancora uscito perché orso già andro a vita siamo più o meno verso dicembre però vedremo poi per bene e poi infine gli ultimi accessori più importanti che sono bellissimi sono queste due pistole che ragazzi guardate qui che meraviglia in pratica sarebbero le pistole della trasformazione del key blade in double arrogance in pratica dove sono in pratica tiene queste due pistole e che parte che colpisceva i nemici e poi può andarle direttamente combinare e formare il canone il magic lancer un'arma veramente incredibile fantastico prima però vi faccio vedere un paio di cose importanti per farvi vedere tutte le armi impugnate vi faccio vedere che questo che vedo che facilmente impugnabile al nostro sora in pratica qui tra l'altro è un po più largo per un motivo molto semplice io ho fatto anche un po dei testi ma diciamo che quando avete visto adesso tirato fuori diciamo che non è la prima volta e l'avevo già fatto un po di volte prima ma quindi e in pratica c'è questo ruolo di testa ecco comunque sia come qua con questo key blade sta molto bene però volevo dirvi questo che ora non ve lo metterò di sicuro ma comunque sia è impugnabile anche tramite questo key blade qui non fatevi ingannare ragazzi questo non è il key blade della sh figures è quello della diamond select che mi piace veramente un casino che siccome fosse la miglior catena regale più simile al vide gioco che possiedo dal mio punto di vista ovviamente poi se vedi venire conto come volete però per me mi piace veramente un casino sì infatti qui notate che la mano è leggermente un po più slargata perché gli ha fatto impugnare più volte la catena regale però adesso non temete non temete sto cercando più di fare mi abituare a questo più key blade comunque sia ragazzi adesso vediamo anche come sta con impugnato il double arrogance ed ecco quello qua direttamente con le sue double arrogance direttamente impugnate ecco 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 quello qua in questo posto un po sempliciotta si so che potrò fare di meglio ma ragazzi è un attimo che è un po complicato vedete così lo calmo così è meglio facciare un po meglio così come vedete eccolo qua tra l'altro cosa che c'è un casino in questa trasformazione è che proprio la catenella rimane proprio diciamo che alcuni dettagli importanti rimangono quindi ci sta veramente ma dico molto bene ma tra l'altro mi chiede una cosa da dove spara direttamente perché non vedo praticamente il foro per sparare in pochettini magici vabbè cavolatemi a parte che io sono un un po troppo logico magari in certi casi e io me la fanno anche un po gli amici e fatti un po' più alto un po' per essere infatti un po' in alcuni casi e vabbè comunque sia a me e non mi aspettavo e sinceramente una cosa bellissima perché l'unico personaggio che ho potuto trasformare i kibble ma anche la trasformazione i kibble è stato trovato in final mix proprio se non è anche proprio il tipo c'era qualcuno ma non mi ricordo per bene quindi non dico nulla per prima di dire le scemenze vabbè e comunque sia ultima cosa che ho trovato nel set che mi scuardo anche farvela vedere prima scusatemi c'è la basetta in pratica questa basetta qua che la notate malissimo vabbè ve la trovo con il suo nio sora ecco ve la qua questo col cuore vedete e che c'è questo puntino qui una cosa che una basetta carina però devo dire che non mi piace molto perché sapete perché perché c'è questi punti qui rigidissimi se voi vedete proprio non si spostano di me in comezzo minima l'unico metodo è stato usare un po' il cacciavite che ho io e slargare per alcune parti di pochissimo solamente per aggiungere la cosa della posa che io volevo e sinceramente questa cosa qui non mi piace per nulla quindi ragazzi se non si verrà molto buona per posarlo vabbè uso quella per essere figure se non mi frega nulla però che un po' che peccato che non è stato fatto per bene con progettazione proprio in questo punto qui lo trovo a mente proprio questa cosa vabbè non è andata in pulito direttamente sul volto finale che sinceramente il volto finale so già che cosa è e non si cambia proprio bene dopo questo punto qui il nostro sora adesso li metto sul keyblade e facciamo le comparazioni varie e misuriamo l'altezza e poi mettiamo una bella posa figa e gli diamo il volto finale il nostro sora in edizione brain guts vediamo adesso la sua altezza che praticamente è alto sui ben 13 centimetri e mezzo potremmo dire ma se contiamo anche per bene anche un po di metri in più per i fiori capelli è alto quasi quasi 14 centimetri proprio come indica il mio metro vabbè e tra l'altro facciamo una cosa diamo anche un po' l'altezza proprio più di quanto è lungo il nostro keyblade senza toglierlo ovviamente vediamo un attimo dalla catenella da qui fino a catenella è alto quasi sui 12 centimole la catenella abbassa lungo sui 14 centimetri quasi la sull'altezza da figlio magari l'ho sbagliato perché magari l'ho fatta un po' velocemente vabbè è una mia curiosità mia che mi è notata sul momento e scusatemi comunque se vuoi dire bella altezza proprio per questa figlio sul sora che lo rende veramente molto bene ah e tra l'altro vi dico anche una cosetta molto abita come passare comparazioni varie è che all'inizio io sul sora direttamente su questo suo abito all'inizio non l'apprezzavo quasi per nulla mi sembrava un po' inutile perché era affezionato proprio quello di kingdom arts 2 in generale però mi sono accorti sia molto bene specialmente il sora è cresciuto ed è un abito molto più bello proprio un momento più sportivo anche più figo proprio è veramente fatto molto bene infatti che anche qui questi punti qui che non ho detto nulla prima vabbè ragazzi dicevo proprio tutto quello che c'era da dire proprio tutti i dettagli vabbè finiamo che non finiva più questa io vorrei mai finiva il prossimo anno proprio vabbè scusatemi e per il nostro sora in edizione bring arts questo paragone direttamente con i soldi di kingdom arts 2 direttamente in non in edizione della diamond select che ho già un'altra edizione speciale che mi sono accoperto proprio recentemente se non è dovrebbe essere quella dell'essage figures anche questa persona buona ma non così tanto buona come lui perché lui è veramente qualcosa di molto ma molto comunque ci stanno molto bene e poi secondo me a verli insieme veramente non fa il suo figuone specialmente che si vede un po di solo un po più ragazzino con questo solo un po più cresciuto ci stanno proprio molto ma molto bene però di questo solo qui poi ne vedremo un po più in avanti per bene non so quando perché ci sono un po di cose da dire questo è direttamente il roxas della diamond select diciamo praticamente una poca figura che ci mette in questa diamond select in questa arrivo qui comunque sono un po più fuori scala perché roxas è un po troppo gigantesco proprio e difesa che un po più normalmente in scala con le altre figure che possiedono nella mia collezione tra l'altro si potrebbe anche andare a mettere questo keyboard qui che dovrebbe essere porta fortuna ma io riesco a non farlo perché siamo un po troppo grosso mi sa che riesco di spaccarlo proprio quindi per paura mia non glielo avrò proprio messo però comunque se ci stanno molto bene allo stesso comprazio e poi roxas dovrebbe essere un po più snello qui nelle braccia dovrebbe anche assaggiamente più basso perché sembra che siano alti alla stessa altezza ma non vorrei dire una cavolata quindi vabbè passiamo avanti paragone speciale direttamente con riku di kingdom master che anche lui è apparito a luca comics e guardate qui che belli che veramente ci stanno un casino insieme proprio si sono stati entrambi 75 euro ma ne valsa proprio la pena perché guardate quanto è bello verli insieme direttamente a riku col sono volete anche a mio padre mi piace un casino anche se avevo quello di kingdom master ma di questo ne parleremo nella sua review direttamente accurata specialmente anche poi il keyblade voglio dire che c'è un po di chitino no dai dire io in generale ma vabbè passiamo avanti aragone speciale direttamente anche con la nostra acqua sempre neanche dell'edizione in pratica da diamond sera che sta veramente molto molto bene direttamente e che tra l'altro sono curiosissimo poi come fanno i salvataggi di acqua proprio di chi fa con sor e evidente mi piace un casino perché ci sarà un casino scontro tra lei impossessata dell'oscurità quindi sarà una bomba quindi non voglio poi sapere altro però so ecco qua un paragone speciale anche con amiche o meglio con topolino sempre anche lui delle direzione della diamond select ma vi dico già la cosa sono direttamente in questi mesi qui sono in pensamento se comprarci direttamente il topolino della sh figuras perché in particolare un casino magari ci potrebbe stare molto bene anche diciamo non ha l'outfit che ha questo qui però vedo per bene per adesso ancora ci devo ancora pensare e per solo ecco anche paragone con la mia diamond select su spider man homecoming che tra l'altro spero che almeno che spider man faccia il piccolissimo comparsa in kingdom master mi sembra una figata in tocca da fanatico di spider man vedrà come evocazione di kingdom master cosa mi era un pochino dico e che tra l'altro dico che non nel paragone finale perché il paragone finale ha o anche di meglio preparatevi come paragone finale per il nostro solo ecco qua direttamente con i suoi due compagni battagli stavolta non l'edizione della diamond select ma è sempre delle sh figuras perché ho riparito anche loro insieme a sor e ragazzi che bello che veramente averli tutti e tre nel mio collection è fantastico e sapete cosa dico ragazzi per questo giro qui cambia i tempi anni non mi metto una posa figa ma ma ve la scelta mettete due tre insieme in quattro ore migliori per questo parliamo un attimo di atti positivi negativi e gli diamo il voto finale quindi ragazzi che dire su questa fantastica ring arts su kingdom astra o adesso solo il mio personaggio preferito che caspita in devo dire che è una figata totale ragazzi è una figata totale è veramente assoluta per mia collection io ragazzi sapevo di questa figlia qui ma l'ho mai analizzata proprio puristamente nella recensione del video di ara e pensavo beh una figura da niente magari se riesco a mi pericione un giorno ma non avevo quasi nessun interesse né per io ma poi mi sono perita perché sono vabbè in botta di kingdom master sono in fissa devastante e sono in hype della madonna sempre per videogioco devo dire ragazzi che ora che l'ho preso ragazzi ho sbagliato di brutto ad essere scettico un po' a pensarci perché è una figata sta figlio qui è veramente una bomba incredibile ad orgerire mentre la mia collection i ragazzi non aspettavo per nulla è mille volte meglio di quanto non mi sarei mai aspettato su tutti i fonti allora per quale motivo per cominciare lo script come realizzata veramente perfetto perfetto su tutti i fonti proprio a tutti i dettagli del soldi che vedremo e mamma mia ragazzi che bello che poi c'è il nuovo chip e che invece mente un casino anche se un pochettino mi dispiaciuto non cerca tenere gale come mini extra che aveva avessato ci sarebbe stato davvero molto bene ma forse a chiedere un pochettino troppo i colori sono fatte molto bene i materiali che ho usato sono molto morbidi fatti veramente perfettamente bene la possibilità è niente male proprio su tutti i fonti è davvero ottimo proprio può mettersi tutte le cose che so potrebbe per fare e questo ragazzi mi va alla perfezione proprio e poi direttamente è fatto proprio tutti i fonti benissimo anche meglio in quanto mi sarei aspettato in altre figure soprattutto anche meglio nella SH Figures che è apparito di recente e che è noto che un pochettino di alcune in perfezione qui certamente molto bene può andare ad assumere tutte le pose ragazzi è una figure incredibile l'unica cosa che è molto costosa come oggetto abbiamo su 65 euro ed è già molto difficile ma vabbè si tratta in oggetto da collezionisti proprio quindi potrebbe anche starci vabbè per chi come me ha il portafoglio abbastanza grande per questi acquisti è ammasta proprio questa figlia qui è veramente fantastica e poi ora che ho ciò proprio nella migliore edizione possibile ragazzi accresce ancora di più la mia felicità sono veramente così tanto contento ragazzi gli unici altri negativi che posso dire e che magari forse poterlo fare un pochettino meglio e ma che vabbè non sono molto influenti per me o e di magari per altre io in pratica cerco sempre figure meglio articolate allora per cominciare il poco lato positivo che dico sono per cominciare i polsi che sono un po' difficili a staccare le mani proprio la parte proprio dei pernetti che ritiene un po fastidio proprio perché quando si mette in pose e delle visioni di stacca di fan casino poi dire la basetta perché ai panni troppo stretti e io ho effetto un pochettino più mobile ma ok per altri so che può anche andare bene così e non capisco come mai ma ok e magari forse il tuo più pigamento qui sul gomito e sui ginocchi ci sarebbe potuto stare ma vabbè ragazzi per me va così benissimo io devo dire che lo trovo perfetto già così come essenzialmente non mi vale nel planeta quindi ragazzi il voto finale che voglio dargli nonostante ciò su dati negativi e tutto il resto il voto finale che gli do è veramente molto alto piglia il voto massimo signore e signore piglia il 10 su 10 proprio perché a me mi soddisfatto su tutti i fronti proprio nonostante conosco alcuni difetti per una volta sono buono e chi se ne frega gli do il voto massimo è bellissimo sono veramente incredibile non mi aspettavo nulla di cosissimi è proprio fatto benissimo il keyboard proprio qui in l'abito proprio tutto quanto mi piace veramente un casino solamente contento sono soddisfatto di averlo preso proprio ed è fantastico per la mia collection che poi avete tante cose che c'è io sono troppo contento soprattutto anche questo sfondo qua e la scatola che è veramente bellissima quindi ragazzi sono contentissimo e e e e basta oggi un troppo aveva piena felicità proprio con questa figlio qui è solamente contentissimo che poi si porta ufficialmente a squire nix quindi ragazzi che roba vabbè che senza perdereci un ulteri tempo vi ringrazio mille per guardare questa review qui magari un po lunghetta ma quindi c'era proprio bisogno di parlare perché questa figlio qui veramente fantastica prossimamente sul mio canale vedremo direttamente o orico di kingdom hearts oppure solo in edizione ma non tenete in ogni caso e poter raios tutti quanti soprattutto su paparino e su pippo quelli verano diciamo un pochettino dopo ma poi vedete per bene devo organizzare bene quindi ragazzi in questo è il mio si conclude qui meno come sempre mi sono stati inviti a meglio quello che vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un bel commento vi ricordo di fare una piccola condivisione in cui voi vogliate in modo da fare la crescita della vita del mio canale e 20 se a fareste ringraziamenti un casino in effetti è un grandissimo favorone e veramente anche poi tutto il quattro poi vi ricordo anche di stare nella pagina facebook il link lo trovate in descrizione e mi raccomando di lasciarci un bel mi piace di seguire le altre tante foto e video di tutti i modelli e molto altro ancora e poi se volete iscrivete al mio canale e attivate anche la campanella moda per tutte le mie prossime rubriche che usciranno non lo so sul mio canale in pratica porto i gump reviews le super robots reviews porto alle super heroes reviews e addirittura le box reviews come ho già detto più volte non solo giocattoli ma anche queste meraviglie qui quindi ragazzi iscrivetevi per non perdere tutte le mie rubricchie e ragazzi con questo è tutto vi lascio con un bel po di cose fighe che ci sarà davvero di divertirsi e ci vediamo al prossimo video un ciao a vostro The The Ranger un bel po di cose fighe che ci sarà davvero di più un bel po di cose fighe che ci sarà davvero di più Grazie.